Grazie Grazie perché anche oggi abbiamo superato i 150 spettatori Vi invito a seguirmi sulla piattaforma viola Vi aspetto se sarà le 23 per parlare ovviamente ancora della partita Ma anche per proseguire la mia weekend league Si è appena conclusa Palermo Vibonese Alla Vibonese mancava un attaccante che io a Palermo Saluto il mio amico Francesco A Palermo avrei accettato a braccia aperta Ma purtroppo sappiamo chi ha fatto la campagna acquisti Chi ha scelto, i giocatori che ha scelto Ed è una persona che non ha mai detto, fatto il mea culpa Mai Mancano 4 partite adesso alla fine del campionato Abbiamo un recupero contro il Foggia E dopo manca le ultime tre Tra cui la sfida contro il Bari In trasferta al San Nicola Siamo ancora in lotta per i playoff Ma sembra che questa squadra quasi non voglia andarci Ci blocchiamo All'un certo Partite che dovresti mangiarti il campo Noi dormiamo Ci siamo riusciti con Saletti settimana scorsa E quest'oggi non ha giocato Non è stato nemmeno convocato E penso che non verrà convocato fino a fine stagione Perché in campo, in questo Palermo Vogliamo solo gente che crede E che lotta per questi colori Quelli non motivati Che sono contro, eccetera, eccetera Spostiamoli Abbiamo scoperto che nel 2021 A fine anno Tantissimi giocatori andano a scadenza dei contratti E quindi potrebbero essere svincolati Non neanche ceruti, svincolati Perché tanto non se li piglia nessuno Oggi ha giocato un ragazzo Si chiama Bubamarong Ragazzo che giocava alla Parmonval È stato acquistato due anni fa Ha giocato con noi in Serie D Non ha quasi mai toccato il campo E quest'anno idem Non ha mai toccato il campo In difesa abbiamo Facciamo i nomi Andrea Cardi E Andre non si tocca Perché darà sempre l'anima per questi colori Lo dimostra Sta zitto Sta in panchina Non gioca Poi entra da tutto Non parla Marconi Difensore ottimo per me Purtroppo sfortunato anche con gli ultimi Infortuni Peretti Giovane classe 2000 Passiamo agli altri A quelli che hanno visto il campo da inizio anno Somma e Lancini Ex Brescia 1 Ex Depor Somma Ma mi spiegate perché avete fatto un contratto a questi? Soltanto per dire Prendo uno che si chiama Somma Che è conosciuto Per tipo Far star zitti i tifosi Prendo Lancini dal Brescia Ragazzi oggi ho giocato Bubamarong Che vi ha messo la terza gamba in bocca a tutti A tutti Perché non ha sbagliato un cazzo Non ho mai visto un esordio Il Lega Pro Ad un giocatore che ha giocato uno spezzone di partita In serie D e basta Il Lega Pro Ok che abbiamo giocato contro la Bibonese Con tutto il rispetto per i nostri avversari Ma è stato Disarmante Preciso Non sbagliava gli interventi Poi nel finale per È stato sfortunato Ha fatto un errore Ma può capitare Ma ha fatto 90 minuti Da giocatore vero Vero Non serve avere Il cartellino Coscritto Ho giocato qua 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 E qua Per dimostrare qualcosa Questa È una categoria di merda Chi pensa che la Lega Pro sia un campionato bello Questa È una categoria di merda Dove non servono i fenomeni per vincerlo Serve solo gente che lotta Che lotta Per 90 minuti Che ci crede Che ha voglia di crederci È un campionato del genere La qualità ti serve I passati devi pur farli Ma cazzo Ci faccia mettere sotto Come prestazione a volte Dalle squadre Peggio conosciuto al mondo E noi abbiamo C'è Luperini che vagava per il campo Oggi Luper ha sbagliato tutto In fase offensiva In fase di impostazione In fase di contrasto Tutto Tutti gli stop Ce l'abbiamo Altri 20 Cristi in panchina Abbiamo giocato con il Catanino 11 Potremmo giocare Far giocare quelli che sono in panchina Ma cazzo Ma cazzo Cioè De Rose era l'unico centrocampista Dove andare Far rottura E impostare Ma allora che cazzo Giochiamo con i due centrocampisti A fare Al mici che fine ha fatto Ma Albi Ma Albi Ma non ti riconosco più Voglio abbracciarti In questo momento Che succede Ho capito che avete ritirato con Canutè Giocate pure sulla stessa fascia Ma basta Scrolliamoci tutto Al mici aveva dimostrato In questa stagione di essere Quel terzino che a Palermo Mancava da un sacco Adesso gioco esterno Di centrocampo Vabbè Ma Silipo Io lo adoro Perché calcisticamente Un giocatore che mi ricorda Qualcuno che il pallone Sa farlo girare E A rientrare a un sinistro Bello Delicato Per me potrà far bene Ma anche lui Ha sfruttato male Quest'occasione Poteva fare molto di meglio Anche lui Anche Rauti Però Possiamo dire Rauti è scarso Possiamo dire Questo è scarso Quello è scarso Ma raga Ma in che modo Abbiamo giocato Ma Dio benedica Lorenzo Lucca C'è Il nostro gioco Anche senza Lucca Che è l'unico Che può far gol di testa È stato quasi Per 90 minuti Cross Alti In mezzo all'aria Per poco Non faceva doppietta Marong Lo stesso Marong Che vi ha tirato fuori La terza gamba In fase difensiva È stato quasi Il più pericoloso In fase offensiva Ma di cosa stiamo parlando? Ma Un minimo di gioco Durante la settimana Sai che ti manca Lucca? Che cazzo Crossate Alti Ma Non si può Sperare Che qualcuno Scivoli Svenga O se la butti Dentro da solo Proviamoci In qualche altro modo Cioè Per 90 minuti Ragazzi Abbiamo fatto La stessa cosa Io non voglio Star qua Sentirmi male Ma è l'evidenza Si poteva fare Molto di più Non se Cioè Sembra che il Palermo Faccia proprio Cagare a mille Ok che tanti giocatori Ragazzi Non sono adatti A questa piazza Ma raga Non c'è neanche Il pubblico Non c'è neanche Il pubblico Io davvero Non 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 me ne capacito Non me ne capacito Vero fare Errori elementari Da dei giocatori Che comunque La pagnotta A fine mese Se la portano a casa Siete pagati Vi pagano A fine anno Lo stipendio 10 mensilità Vi pigliate Per giocare Almeno date tutto Ma è come se io vado A vendere la frutta E tipo Mi metto lì al bancone Non faccio più il frutto Mi metto lì al bancone Mi passano i clienti Vicino Vi faccio Neh Non oggi Ma raga Com'è L'impegno Prima di tutto La fama agonistica Ma non ce l'avete La voglia di No esplodere Di diventare Ancora più forti Siete eroi Per i tifosi I tifosi Vi venerano Noi tifosi Siamo fatti così Ma non in questo modo Stiamo continuando A far figuracce Con chiunque Poi va bene Poi si Raga lo so Mi direte E con Ma c'è un rigore Ma raga Era nettissimo Ma dai Ma dai Come possiamo attaccarci ai rigori Quando hai preso un tiro in porta in tutta la partita Due Come Cazzo Davanti alla porta Ma io piuttosto mi facevo Mi facevo saltar via il ginocchio Piuttosto di buttarmi scivolata E provare a Controstare anche il portiere E facevo cagare io Ma Non vedo proprio quello Il sangue agli occhi Non lo vedo Vedo gente Demotivata E troppo svogliata E io E noi Giocatori così In campo Con addosso la nostra maglia Non li vogliamo Quindi invece di fare i proclami In conferenza stampa Daremo il massimo Abbiamo capito cosa abbiamo sbagliato Daremo tutto E poi non fate una minchia E poi non riusciamo a concludere una minchia di niente Stiamo zitti Retiro Conferenza stampa Nessuno Nessuno che vi fa domande Vi allenate E poi in campo date tutto Però poi nessuno parla Poi a fine campionato facciamo i conti Perché ci siamo Rotti i coglioni Ci siamo rotti i coglioni E chi ha sbagliato Inizio anno In questa costruzione Scellerata di questa squadra In queste scelte Lo ammetta Vada in conferenza stampa Vada allo stadio Prenda un microfono Accenda il cellulare Può fare pure la diretta su facebook per me Ma deve dirlo Deve dirlo chi ha sbagliato Perché non è soltanto colpa del giocatore Per me Chi ha sbagliato Allora Per me